La mia bacchetta! Guarda la mia bacchetta! Ringrazia che non è il tuo collo! Che succede? Non lo so! Harry! Zitto! Ma se non sei tu il mostro, allora... Cosa ha ucciso quella ragazza? Tranne la scatola in cui Hagrid mi teneva, la ragazza è stata scoperta in un bagno. Quando sono stato accusato, Hagrid mi ha portato qui. Harry! Cosa c'è? Beh, grazie. Noi ce ne andiamo. Ve ne andate. Non credo proprio. I miei figli e le mie figlie non toccano Hagrid su mio ordine. Ma non posso negare loro carne fresca quando questa gironzola così volentieri in mezzo a noi. Addio, amici di Hagrid. Posso avere paura ora? Miseriaggia, che succede? È prossimo! Ron! Concentrati, affronta la paura, con coraggio. Aspetta! Ron! Ron! Aspetta! Ron! Aiuto! Ron! Aspettate, aspettate! Che brutta idea, che brutta idea, che brutta idea, che brutta idea! Professore! Professor Lupin! Non c'è adesso não. Che brutta idea... Che brutta idea, che brutta idea! Grazie per la visione!